ogni caffè con è speciale ma questo oggi lo è ancora di più siamo intorno a un pianoforte perché l'amico che è venuto a trovarmi qui è proprio nella sua dimensione perfetta Giovanni eccoci che bello che piacere come stai? bene molto bene senti innanzitutto dimmi come lo prendi il caffè dolce o amaro? zuccherato oh ho trovato uno che prende il caffè dolce come me tutti amari senti io ho fatto trovare qui anche un po' di cioccolato della tua modica perché non so se magari lo prendi accompagnato ti piace il caffè accompagnato? sì sì io sono abbastanza goloso poi il cioccolato buonaiuto è proprio sai mi riporta nella mia terra mi ricordo che me l'hai anche regalato una volta me l'hai portato era buonissimo senti ma che musica ti piace ascoltare quando bevi un caffè? beh di solito in realtà lo bevo in momenti di transito quindi non c'è molta calma non c'è molta possibilità sì o di chiacchiera quindi però vabbè forse metterei qualcosa di cioè che mi piace in generale non so Ludovico e Inaudi eh beh anche quando mangi il cioccolato? no forse Radiohead vai un po' più sulla grinta senti torniamo un po' a questa città ma modica la tua città natale perché spesso si si pensa che nascere in una piccola città possa essere anche un ostacolo soprattutto per chi vuole fare una carriera artistica e questa città la tua città che cosa ha rappresentato per te? ma sicuramente diciamo in generale la Sicilia penso che che inizialmente sia stato un ostacolo no apparentemente cioè quando io sono andato via dopo il liceo dopo appena compiuti 18 anni sono andato via perché sentivo un po' una lentezza mi sentivo stretto sentivo di essere un po' vulcanico e quindi di aver bisogno di una di una città dinamica quindi quando sono arrivato a Milano mi sono subito sentito nel posto giusto quindi tu arrivi vedi questo moto perpetuo poi dopo un po' di mesi inizi a chiederti ma questi dove corrono tutti? cioè inizi a capire che forse diciamo l'equilibrio esatto risiede un po' nel balance di questi due aspetti no lentezza e moto per quattro anni circa sono stato uno stalker gentiluomo mi sono appostato sotto le etichette discografiche sotto insomma uffici di manager publisher vari per consegnare i miei dischi mia madre mi disse fare il cantautore non è un lavoro quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura al politecnico di giorno studente e la sera sognatore creativo finché poi paradossalmente l'occasione più preziosa della mia vita si è presentata proprio a pochi chilometri da casa mia in Sicilia quindi la terra da cui ero fuggito in realtà poi mi accoglie e mi dona penso il frutto più prezioso che è stato poi l'incontro combattiato e ho capito che in quella lentezza c'era una grande risorsa che è la contemplazione soprattutto per un artista è una lentezza che ti avvicina al tuo essere umano al tuo essere analogico e ti mette anche proprio in una condizione di creatività maggiore di ascolto infatti devo dire che sono rimasta molto colpita seguendo il tuo profilo Instagram perché tu l'8 di dicembre compi 32 anni non sbaglio ecco tu sei sempre molto proiettato verso il futuro però hai sempre quest'occhio verso il passato cioè ci sono alcune volte che tu pubblichi delle foto e scrivi delle cose che ti riportano io non so mi sembra di vederti nella tua Sicilia questa Sicilia assolata nella tua casa dove c'è questo silenzio e tu hai detto che senti un po' una nostalgia che addirittura hai paragonato al mal d'Africa sì sì ma perché in realtà penso che ognuno di noi sia molto legato al luogo in cui è nato cioè mi rendo conto che quando ho bisogno di resettare un po' anima e corpo di riappropriarmi del mio tempo della mia consapevolezza di respirare il posto in cui riesco a farlo perfettamente è proprio la mia terra natia in particolare ecco io ho vissuto a Ragusa sono nato a Modica quindi è tutta la provincia tutta quella diciamo quella parte di Sicilia è casa però Friggintini che è proprio la campagna modicana dove sono i miei nonni, dove è nata mia madre, dove è nato mio papà è il luogo perfetto sai come quando il pezzo del puzzle combacia perfettamente con la sagoma lì mi sento a casa peraltro infatti ho in progetto comunque di creare una mia succursale una mia sede succursale artistica lì e creare una residenza per artisti in cui gli artisti potranno creare nuove opera incontrarsi, certo senti che bimbo sei stato? raccontami un po' qualche immagine di te piccolo ma guarda devo dire molto sereno, molto felice fino a nove anni ho vissuto una vita proprio bella ero anche molto curioso mi ricordo che chiedevo sempre ma davvero? cioè dicevo sempre ma davvero? cioè mi stupivo per tantissime cose anche per cose molto semplici e poi sicuramente mi piaceva moltissimo la domenica andare nella fattoria dei nonni a raccogliere le uova insomma quindi sì, un bambino molto felice sereno sì però dico la passione per la musica quando nasce? come e quando è nata? ma da piccolo quindi avevo penso un sette anni sei sette anni ho iniziato a studiare chitarra solfeggio, armonia e ho fatto parte di un coro il coro Marielle Ventre di Ragusa e questo è stato un po' il primo imprinting poi mio papà ha avuto un cancro si è ammalato e quindi questa pagina diciamo questa nube ha un po' messo in pausa la musica apparentemente perché negli ultimi due anni lui è stato allettato quindi io ho proprio visto appassire questa figura così importante per me questa colonna e mi ricordo che lui era molto devoto alla Madonna di Fatima aveva proprio un altarino della Madonna di Fatima in stanza ed è morto il 13 maggio che è proprio il giorno della Madonna di Fatima quindi puoi immaginare il mio rapporto con questa Madonna per tanti anni non è stato sicuramente pacifico e pochi mesi prima che lui morisse vennero delle suore a casa nostra e dissero a mia madre la sofferenza di suo marito è un dono per la vostra famiglia per me quelle frasi sono state come pugnalate per tanti anni ho cercato di capire come con tanta insensibilità si potesse dire una cosa del genere a una giovane moglie dei bambini e dopo tanti anni dopo una psicoterapia preziosa che è stato penso uno dei doni più belli iniziare a capire che c'è un'interiorità e quello è il viaggio più prezioso che noi possiamo fare possiamo compiere la risposta l'ho trovata in un libro di Tiziano Terzani che si chiama Un altro giro di giostra che a 18 anni mi ha illuminato perché lui racconta come all'apice della sua carriera dopo insomma penso aver soddisfatto e aver raggiunto tutti i suoi obiettivi professionali scopre di avere un cancro e dice gli anni più vivi della mia vita sono stati quelli della malattia perché a un certo punto una sveglia si è accesa accanto al mio corpo accanto alla mia anima e quella per me se inizialmente è stata una diciamo una notizia di terrore poi è diventata una liberazione perché ho avuto una giustificazione per iniziare a fare frequentare compiere solo azioni persone viaggi che realmente avevo voglia di fare quindi avevo una giustificazione per dire guarda non possiamo più vederci perché ho il cancro quindi facevo solo le cose che effettivamente mi interessava fare allora io ho riflettuto ho detto ma io questo posso farlo subito quindi posso non aspettare che si accenda questo timer ma sfruttare ogni giorno per la luce per la bellezza e quindi da lì ho scelto la musica quindi insomma praticamente maggiorenne appena maggiorenne la scrittura è stata la cosa che poi è stata un po' la chiave di volta sì mi ha fatto cadere però il primo disco che tu ricordi da bambino che ti ha appassionato ma guarda me ne ricordo tre la colonna sonora di c'era una volta in America di Morricone poi Phil Collins un Greatest Teats erano tutti in vinile e poi c'era una raccolta di Mina e un disco di Cristina D'Avena un vinile di Cristina D'Avena sì e questi sono stati diciamo i primi vinili che ho consumato sono stati i regali oppure sono stati i dischi che hai comprato tu ma quello di Cristina D'Avena l'hanno regalato a me a mia sorella penso per Natale insomma così gli altri erano i dischi dei miei genitori quindi quelli che ascoltavano loro poi in realtà non è che si ascoltasse tanta musica in casa quindi quel giradischi stava nella mia stanza e in qualche modo eri l'unico eri l'unico a farlo a dargli vita sì anche mia sorella devo dire però principalmente io affascinato da questo da questo oggetto così misterioso senti Giovanni tu poi ti affacci al grande pubblico nel 2015 come nuova proposta al Festival di Sanremo l'anno dopo ti ripresenti nella categoria big arrivi in terza posizione insieme a Deborah che cosa ha rappresentato per te quel palcoscenico proprio il Festival di Sanremo il Teatro Ariston ma è stato ed è sicuramente un passaggio cardine un palco indescrivibile tu è come se percepissi la storia della musica italiana intorno a te cioè come se le energie di tutte le canzoni che hanno fatto parte di questa kermesse fossero lì fossero rimaste proprio all'interno di quelle tavole esatto e questa penso sia un'emozione che prescinda dalla grandezza del teatro insomma cioè è proprio una magia è proprio una magia che percepisci lì in quei giorni che poi sono dei giorni frenetici insomma tu lo sai devo dire tutte e tre le mie partecipazioni sono state molto diverse tra loro la prima nei giovani ero veramente terrorizzato perché poi c'era questo meccanismo di gara in cui ogni sera sfidavamo diciamo un altro e ne rimaneva uno e poi così via e ci sono stati dei momenti in cui ero sicuro di perdere ma perché in qualche modo sfidavo tutto ciò che nella mia vita aveva sempre vinto cioè la paura ma no anche sai non so cioè la 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 vittoria è come se non fosse contemplata tra le opzioni cioè c'era un grande desiderio una grande dedizione vocazione per la musica però non so cioè veramente non mi aspettavo questa vittoria così poi tutti i premi cioè è stato un momento in cui poco dopo infatti sono svenuto cioè fuori questo come sei svenuto raccontami sì sì sono svenuto perché quando Carlo Conti ha annunciato la vittoria io poi l'ho proprio sollevato perché ero ero veramente così incredulo e euforico e poi dietro le quinte appena ho visto il mio discografico poi c'era mia madre praticamente ho avuto un mancamento perché mi sembrava tutto surreale non eri preparato no però forse è ancora più bella la gioia bellissima no veramente ma poi quell'anno Malika portava sul palco quella canzone scritta insieme a lei bellissima cioè è stato un debutto a tutto tondo veramente molto pieno sì e poi Eterno è stata una partecipazione per me importante perché il fatto che questa canzone poi negli anni sia rimasta la canzone più significativa anche più riconosciuta dal pubblico per me è stato bellissimo perché è una canzone è parte della mia anima no e quando questo coincide cioè quello che gli altri percepiscono coincide con il tuo vissuto è straordinario penso sia quello forse è stato proprio il momento della maturità per te sì sì senti io ti voglio riportare ancora un po' in Sicilia perché tu mi hai accennato appunto di questo incontro che sicuramente per te è stato fondamentale perché poi ognuno di noi ha dei maestri o comunque dei punti di riferimento tu hai avuto la fortuna veramente di avere un punto di riferimento così importante che poi è diventato il tuo maestro ecco parlami un po' di Battiato come l'hai incontrato che cosa che cosa ti ha lasciato sì allora l'incontro è stato diciamo quasi comico nel senso che un po' ricalcava il modus operandi dei miei appostamenti milanesi nel senso che io avevo già per 38 volte a Milano in quegli anni fatto la stessa cosa quando mia madre scoprì che stavo per appostarmi fuori casa di Battiato mi disse ma tu sei matto ti denunciano per stalking ho detto mamma sono 4 anni che faccio la stessa cosa tu non lo sai ma io mi apposto con insomma in modo educato educatamente lui potrà ascoltare il disco oppure cestinarlo sarà libero di fare quello che vuole e quindi una mia amica in realtà perché io quell'anno ero tornato in Sicilia quell'estate convinto di abbandonare questo sogno ma non la parte concreta quindi di scrittura ma la parte visibile cioè ho detto vabbè farò l'architetto con la passione per la musica cioè continuerò a scrivere ma lo farò per me perché comunque la delusione l'indifferenza erano state tante cioè avevi bussato troppe porte che non si erano mai aperte e quando si erano aperte comunque si erano create delle aspettative che poi di fatto non si erano mai concretizzate quindi erano state parentesi anche molto dolorose che però fino a quel momento erano state per me stimolo per crescere cioè per me quando qualcuno criticava una mia canzone io gli davo retta quindi cestinavo quella canzone e provavo a fare di meglio quindi è stato sicuramente molto costruttivo il fatto di incontrare queste persone che in qualche modo non riconoscessero il fuoco della mia creatività quindi torno in Sicilia e questa mia amica che nel frattempo aveva ascoltato tutta l'evoluzione delle mie composizioni mi disse ma tu non puoi mollare adesso guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata e quindi mi sono appostato per 4 ore il 9 agosto del 2012 dietro questo c'è Spuglio c'è anche una foto di questo appostamento avevo questa diciamo busta di plastica con dentro una lettera e un cd perché io di solito quando busso e questo lo faccio tuttora anche quando ho coinvolto William Dafoe o Patty Smith cioè in tutto quello che faccio quando busso alle porte di qualcuno scrivo sempre una lettera sono un po' alla vecchia e in realtà in quel momento mi ricordo che mi chiesi ma cosa posso scrivere a Battiato perché se dovessi scrivere qualcosa di me o qualcosa di lui sicuramente sarà disinteressato provo a scrivere qualcosa sul silenzio sull'importanza del silenzio per me per la mia creatività e quindi quella lettera si chiamava silenzio e parlava del silenzio lui dopo quattro ore quindi uscì fuori per fare una passeggiata mi vide mi guardò malissimo e mi disse solo c'è un cd dentro e io dissi sì va bene ciao va bene arrivederci quindi mia madre torna a casa mi dice allora come è andato benissimo guarda abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata simpatico ed ero convinto reduce dagli appostamenti milanesi in cui i discografici dicevano grande guarda ascolto tutto ti faccio sapere cioè simpatici quindi no espansivi e invece poi nulla figuriamoci quindi vado al mare torno dal mare trovo cinque chiamate anonime un messaggio in segreteria sono battiato ho provato più volte e chiamare ho ascoltato il disco devo dire veramente molto bene ci vediamo domani alle 11 spiaggia ciao e quindi per me sei svenuto di nuovo no non è capitato lì è stato proprio in realtà quei giorni lì perché poi domani mattina mi sono ripresentato lì lui alle 11 in punto mi ha raggiunto mi ha detto eccoti caro guarda ieri sono stato un cafone ma vedi sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi cd comunque voglio produrre il tuo disco faccio un bagno e ne parliamo quindi da lì si è aperta per me come posso dire non una porta un portone sì però emotivamente avevo questo doppio binario di entusiasmo e di gioia incontenibile e di terrore perché comunque c'erano già state delle persone che mi avevano dato delle aspettative che poi di fatto non si erano concretizzate e quindi ho detto se dovesse deludermi anche lui rimarrei veramente molto deluso forse anche un po' dalla vita e invece poi così non è stato cosa gli devi in maniera particolare qual è il il consiglio più prezioso che ti ha che ti ha consegnato ma guarda penso che la sua eredità sia stata sia custodita e fotografata in una in una frase che lui mi disse un pomeriggio mi disse avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e un artista libero ricordarti ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine fa sì che la tua arte sia semplicemente lo specchio di ciò che sei quindi non chiederti cosa devo scrivere per andare in radio per vendere di più ma chiediti di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita quella sarà la radice del tuo prossimo disco poi ci saranno dischi che saranno più apprezzati dischi meno apprezzati però questo è l'unica questa è l'unica chiave per la libertà e per me questo è stato salvifico col senno di poi perché comunque mi ha dato da subito un approccio molto preciso al mio cammino beh una guida molto precisa sì e penso che quest'ultimo disco parola anche eterno lo è stato ma questo penso sia esattamente il frutto di un viaggio di cui io mi sono proprio innamorato cioè a un certo punto è stato talmente prezioso per me e nutriente che avrei potuto anche non pubblicarlo cioè era comunque già era compiuto per te compiuto sì ecco a proposito di parola visto che ne parli tu sei incredibile perché sei riuscito a convincere due donne pazzesche e poi ci sono altri nomi ma insomma se io ti dico Patty Smith e Liliana Segre ecco come hai approcciato per portarli in questo progetto perché è un progetto che vede veramente delle collaborazioni preziosissime sì ma devo dire guarda tutto è nato da un discorso di Andrea Camilleri perché mi trovavo per la quarta volta di fronte a questa pagina bianca per capire che tipo di disco fare dopo Eterno che comunque è stato l'album più di successo prima di parola e quindi dicevo dove vado cosa faccio e quindi di solito in questi casi inizio a nutrirmi della luce degli altri quindi a guardare film a leggere romanzi testimonianze e ho riascoltato queste parole di Camilleri che ricordando l'importanza e il peso della parola chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo e quindi io dissi ma è folle lui a chiedercelo siamo folli noi a rispondere o a non rispondere e quindi ho detto vabbè io nel mio piccolo rispondo a questa appello e creo un disco parola in cui ogni canzone è ispirata a un testo di letteratura italiana o straniera o contemporanea e ne dichiaro le fonti quindi praticamente ogni canzone per esempio Aurora è ispirata a un testo di Franco Battiato e Maglio Sgalambro che si chiama I'm Death parla di buio e luce quindi Aurora parla della stessa tematica e il testo di Battiato e Sgalambro viene interpretato prima della canzone da William Dafoe Patti Smith ha letto e interpretato insieme alla figlia Jessie questo dialogo tra una madre e una figlia come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature prima del cambiamento quindi il tema è la sostenibilità ambientale Liliana Segre è stato un incontro veramente delicato fragile straordinario perché prima ci sono voluti dei mesi per riuscire a trovare il contatto per poterle parlare la figlia Federica è stata un ponte veramente straordinario ci siamo incontrati al Parco Sempione e lei mi disse lei è molto gentile io la incontro volentieri però sicuramente questa cosa non la farò e io le dissi guardi per me è già una vittoria incontrarla e parlarle di quello che io che io sto facendo per raccontarle qual è la mia missione artistica e quindi siamo stati quattro ore insieme a chiacchierare di tantissime cose un po' della mia storia della sua perché quello che ho cercato di sintetizzare sintetizzare era un po' un dialogo tra una figlia e un padre cioè questa figura paterna che per lei è stata fonte di tanto amore di tanto dolore ho immaginato l'ho un po' così accostata alla mia figura paterna quindi quello che sicuramente io e Liliana abbiamo avuto in comune è stata la perdita del padre in modi ovviamente imparagonabili però quello è stato cioè a volte sai quando scrivi e anche quando scrivo per altri artisti cerco sempre di trovare un gancio emotivo sì un riflesso dell'anima altrui che coincida con il mio vissuto e quindi c'è questo questo dialogo questa canzone si chiama Prede Predatori che è un dialogo tra la piccola Liliana e il padre lei quando ascoltò questa canzone poi crollò e mi disse guarda non solo partecipo e parteciperò ma vorrei scrivere un nuovo pensiero prima di questa canzone che vorrei comunicare al mondo prima della mia scomparsa cioè come l'olocausto abbia influenzato il mio essere madre cioè l'attimo in cui ho allattato mio figlio che ho chiamato con lo stesso nome di mio padre è stato l'attimo in cui si è accesa una piccola luce nel buio nelle tenebre che avevo vissuto fino a quel momento incredibile senti parliamo un pochino di noi sì certo andiamo su un mondo diverso parliamo di teatro se ti dico non mi hai più detto ti amo è certo è il nostro è il nostro gancio certo che ricordo hai di quell'esperienza perché effettivamente il mio debutto nella commedia è stato anche il tuo debutto perché tu hai appunto scritto le canzoni inedite dello spettacolo ecco era la prima volta che lo facevi sì 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 per uno spettacolo teatrale sì e devo dire anche qui cioè per me è stato come come essere un po' un sarto no? cioè cercare di capire in realtà penso eravamo particolarmente anche in sintonia in un momento affine cioè io stavo scrivendo delle cose che erano quasi perfette no? per questa con me cioè come se la vita ci stesse dicendo questa cosa parlatevi esatto unite le vostre forze quindi poi anche il fatto che tornasse tornasse anche anche il tema della malattia della riflessione della famiglia della del confronto dell'ambizione devo dire comunque è stata una è una commedia brillante che ti aiuta ad attraversare varie pagine emotive di ciò che viviamo quotidianamente quindi sono stato molto felice di affiancarti io poi non dimenticherò mai quella sera in cui live come dire quel momento che poi è il momento più difficile no? proprio dello spettacolo la fine del primo tempo in cui lei decide che è arrivato il momento di prendersi una pausa di riflessione con con suo marito partiva il tuo pezzo c'è stato appunto due sere sia a Roma che a Milano in cui ce l'hai ce l'hai fatta dal vivo bellissimo e poi chissà non finisce qui cosa succederà non possiamo dire niente ancora però però questa collaborazione che evidentemente ci è piaciuta tanto possiamo dire che è stata sicuramente una collaborazione fantastica sì sì esatto esatto mi piace mi piace mi piace senti come si come nasce una tua canzone cioè qual è il tuo processo creativo che ma allora guarda no no è molto molto interessante peraltro fino a qualche tempo fa avevo delle certezze cioè nel senso ti avrei risposto dicendo nasce prima la musica poi arriva il testo insomma così adesso secondo me probabilmente quando una metodologia ormai è consolidata poi si creano delle dei figli anarchici quindi no ci sono delle canzoni che nascono per strada cioè tu cammini e ti viene in mente una melodia spesso anche già con con un testo no e quindi con un registratore appunti quello che che viene fuori in modo istintivo quindi tu cosa fai vai in giro sempre con un registratore con te con il telefono giusto adesso con il telefono e poi ci sono delle canzoni di cui ricordo perfettamente l'attimo la nascita ed è bellissimo riascoltare a distanza di tempo quel memo vocale perché tu conservi io conservo tutto sì quindi per esempio ho il memo vocale di quando è nata Eterno ed è non so è incredibile perché secondo me in realtà noi non siamo cioè le canzoni non sono mie cioè io in realtà mi sento un ponte sono un tramite no quindi la mia diciamo la mia missione è tenere le antenne sempre pronte ecco sei un ricevitore un ricevitore sì un osservatore ecco un canalizzatore e quindi sì poi quando scrivo per altri invece spesso nasce da un incontro da una chiacchierata cerco di capire che cosa l'altro ha bisogno di raccontare no adesso per esempio qualche giorno fa è uscita questa canzone Silent Song che ho scritto per Elisa che è stata per anni lì ad aspettare l'attimo giusto perché poi Elisa l'aveva incisa poco dopo l'uscita dello scorso album e quindi aveva appena pubblicato quello quindi sicuramente avremmo dovuto aspettare moltissimo però come posso dire è come se ogni canzone fosse avesse una sua storia senti io ti riporto un po' nel mondo delle parole che appunto sono questo questo album perché tu di parole e direi anche che parole ne hai anche racchiuse in un romanzo epistolare perché non si fa mancare nulla scrive anche libri però questo è veramente molto bello è dialogo con mia mamma ecco con mia madre che dialogo c'è con tua mamma perché hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro ma l'idea è nata perché diciamo che dopo la vittoria di Sanremo sicuramente è iniziato un periodo di moto abbastanza importante quindi avevo pochissimo tempo per di distacco sì di distacco esatto e siccome per tanti anni ero partito un po' alla ricerca di tutti i tasselli mancanti per comporre questa figura paterna assente a un certo punto mi sono detto ma io sto continuando a cercare dei tasselli mancanti di papà ma di mia madre effettivamente cosa so quanto realmente conosciamo le persone che amiamo e quindi da lì ho avuto questa idea di regalare a mia madre un computer aprirle una casella email e le ho detto guarda io ogni tanto ti scriverò delle email raccontiamoci al di là dei ruoli e per un anno e mezzo circa ci siamo scambiati queste lettere in cui ci siamo raccontati e ho scoperto la figlia la moglie i suoi sogni ho scoperto che ha studiato a Milano tu dirai non lo sapevi no ho scoperto quando ha conosciuto mio papà quando ha scoperto che mio papà si era ammalato e noi non sapevamo nulla e loro hanno preferito diciamo proteggerci da questa notizia e quindi per tanti mesi hanno dovuto inghiottire no questa questo veleno portarlo portarlo da soli insomma e alla fine è stato un viaggio talmente straordinario per noi che ho sentito la necessità di condividerlo quindi è una testimonianza ecco se questo libro cioè l'auspicio che mi sono che mi sono posto è stato quello di dire se questo libro riuscisse ad accendere ad aprire dei dialoghi nuovi con nuove consapevolezze tra persone che già si amano ma che possono farlo in modo ancora più profondo sarà questa la vittoria ecco quindi non c'è nessuna velleità ovviamente no no però effettivamente l'incomunicabilità alle volte è un po' un problema dei nostri giorni il fatto che alle volte si faccia fatica a comunicare soprattutto genitori e figli invece poi ci sono degli spazi importanti di condivisione sì ma io credo molto in questo ed è proprio per questo che ho per esempio adesso qualche mese fa lanciato questo progetto Parola ai Giovani perché viviamo in un momento in cui regna questa incommunicabilità cioè in cui siamo apparentemente tutti connessi ma in realtà siamo isole ed è sempre più difficile trovare qualcuno disposto ad ascoltarci a cuore aperto e quindi questo progetto è nato perché ripartendo dall'appello di Camilleri quando ho finito di creare questo disco in realtà cresceva in me la consapevolezza del fatto che non bastasse la mia risposta al suo appello per far partire un umanesimo ma servisse la risposta di tantissimi giovani e quindi ho lanciato questo concorso di idee in cui ho chiesto a tutti i giovani italiani cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo cosa cambieremmo lo sappiamo tutti ovviamente però magari trovare anche delle soluzioni pratiche esatto e quindi ho fatto queste 15 tavole rotonde nelle università italiane per ascoltare le idee dei giovani dei ragazzi ed è stata un'avventura straordinaria abbiamo ricevuto più di 900 trattati 900 parole di cambiamento ne abbiamo selezionate 60 ci saranno diciamo delle tappe che non si possono ancora dire ma io già so qualcosa esatto che racconteremo ma al solito ci stupirai ci stupirò vi stupiremo anzi perché è un progetto collettivo e alla fine questo manifesto insomma si concretizzerà ecco sarà il contributo dei giovani all'Italia senti hai parlato di giovani e quindi qui viene naturale anche parlare del tuo ruolo della tua partecipazione anche come coach ad amici no? ecco che esperienza è stata quella soprattutto che cosa ti piace comunicare ai ragazzi che hanno il sogno che avevi tu qualche anno fa ma io mi sono messo al servizio di questa esperienza perché penso che sia una fase preziosa del cammino di un artista la fase iniziale e quindi diciamo sono stato molto felice di così di condividere parte della mia storia analizzare insieme così dei testi che per me sono stati e sono tuttora un faro nel mio cammino da cantautore e cercare di capire anche tutti gli aspetti che fanno parte di un progetto artistico cioè un artista si esprime attraverso le sue canzoni ma si esprime anche attraverso la copertina la foto che scegli come 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 foto no cardine del tuo album si esprime attraverso il videoclip le idee che ci sono dietro la cura di tutti gli aspetti no e quindi abbiamo fatto questo viaggio insieme è stato un viaggio bellissimo ringrazio infatti Maria per questa opportunità e penso che un po' ognuno dovrebbe condividere le cose belle che ha vissuto penso sia la stessa cosa che assolutamente che fai tu no assolutamente forse l'immagine più preziosa che grazie a questa esperienza sono riuscito ad elaborare è un po' la metafora della mia carriera cioè ho detto devo trovare un modo per raccontare ai ragazzi come osservandomi dall'esterno ho vissuto questi anni fra poco sono dieci vabbè non lo dire così per favore questi primi dieci anni smettila ecco vabbè tu insomma questi primi dieci anni di di cammino e il mio totem è la tartaruga perché inizialmente quando ho vinto il festival no ho iniziato a fare questi mi sentivo una tartaruga ho iniziato a fare questi passi piccoli sempre in avanti a mangiucchiare l'erbetta che mi circondava quindi ecosostenibile quando mi sentivo impaurito mi chiudevo dentro il mio guscio al sicuro ma soprattutto la cosa straordinaria è che ogni tanto potevo anche fermarmi guardarmi intorno e godermi il paesaggio e dire cavolo sono arrivato qui inizialmente quando vedevo passare tutti i missili sopra di me di colleghi amici che avevano avuto un successo più veloce un successo commerciale dicevo mamma mia beato lui beata lei ovviamente no io lì sotto poi a distanza di anni ho iniziato a incontrare molti relitti di quei missili che avevo invidiato no e allora ho detto ma cavolo vedi io sto arrivando dopo due anni qui dove quel missile che io avevo quella navicella che avevo invidiato si è fermata e allora inizi a capire che in realtà la velocità è un pericolo perché comunque riuscire a dosare il carburante a tenere la rotta ma soprattutto a goderti il paesaggio è veramente molto arduo il qui sì quindi con molti di loro artisti e colleghi che poi hanno avuto dei momenti come tutti di grande gioia di grande anche riflessione ti accorgi che nei momenti di visibilità di accelerazione di frenesia il rimpianto è quello di dire cavolo ho vissuto per un anno il mio sogno però non me ne sono quasi accorto e quindi questa è la cosa più preziosa secondo me il monito cioè capire che la cosa più importante è acchiappare quegli attimi quelle esibizioni quel momento in cui dici cavolo questa sera presenterò la mia canzone che ho scritto nella mia stanzetta per la prima volta al grande pubblico quello è un attimo che tu devi goderti al di là della gara al di là del fine proprio quello è già il sogno ecco cioè porsi degli obiettivi un po' più a breve termine esatto e godesseli sempre proiettati a quello che sarà fra chissà qualche settimana qualche mese qualche anno e ci perdiamo veramente di vista quello che stiamo vivendo in questo momento e ti dico anche un'altra cosa questo in realtà si riflette molto poi anche nella mia nel mio approccio alla vita cioè nel senso che la nostra tentazione è quella quotidianamente di dire ma se solo riuscissi ad avere quello poi veramente sarò felice poi raggiungi quell'obiettivo e dici vabbè ma se adesso riuscissi ad avere quell'altra cosa sarei sicuramente appagato e alla fine questa è una cosa che non finisce mai no e allora durante la pandemia quando quando tutto era nero intorno a noi e io devo dire avendo avuto la fortuna di star bene quel tempo in casa era stato veramente un dono perché venivo da anni in cui praticamente avevo vissuto pochissimo in casa quindi mi ero riappropriato del tempo per scrivere per portare avanti il disco e a un certo punto ho immaginato la mia vita come una navicella spaziale cioè come una cabina di pilotaggio di un aereo e ho detto la nostra vita è così abbiamo davanti 100 pulsanti di questi 100 pulsanti ce ne sono 95 verdi e 5-6 rossi ogni giorno quello che noi facciamo è svegliarci e fissare quei 5-6 pulsanti rossi e quindi ovviamente le nostre giornate diventano delle giornate rosse negative poi arriva la pandemia e uno di quei 95 pulsanti che non avevamo mai considerato che la libertà si spegne e tu dici cavolo ti ritrovi chiuso in casa e dici come vorrei andare a fare una passeggiata e allora la riflessione che dobbiamo fare è ma perché io per 30 anni non ho mai dato né un nome né un valore a quel pulsante che era lì era verde e allora quello che ho iniziato a fare ogni mattina è di chiudere gli occhi dare un nome ai 5-6 pulsanti rossi e poi concentrarmi sui verdi e dire cosa sono le cose importanti che oggi ho e per cui posso dire grazie mia madre spengo mia madre e mi connetto all'attimo in cui mia madre non ci sarà più arriverà a quel lutto no la mia voce spengo la mia voce continuerei a vivere sicuramente troverò un'altra strada però penserò mamma quando avevo la voce come era tutto straordinario no spengo i miei amici dopo 10 minuti di questo esercizio che potrebbe sembrare folle quando tu schiaccerai il pulsante reset e tutto tornerà come all'inizio ti sentirai ricco ecco e quindi la mia fede la mia spiritualità oggi si basa sulla parola grazie sulla gratitudine perché noi iniziamo a pregare quando abbiamo bisogno di qualcosa diciamo ti prego aiutami c'è qualcosa che non funziona e invece io ogni sera cerco prima di addormentarmi almeno 15 cose per cui ringraziare e quindi sicuramente stasera ringrazierò per questa nostra chiacchierata guarda io penso che possiamo proprio finire così senti come che melodia ti ispira questo caffè che abbiamo preso oggi insieme ma guarda mi ispira una canzone che per me in questo anno e mezzo è stata cardine simbolo di questo progetto parola che è il cambiamento che è la canzone appunto che è accompagnata da Patty Smith e da Jesse Perry Smith perché penso che sia una parola che sentiamo di cui sentiamo tanto parlare anche la parola sostenibilità che sostituirei con la parola cura e questa canzone di questa canzone sono particolarmente orgoglioso perché riesce a sintetizzare il mio messaggio e quindi te la faccio ascoltare senza parlare così te lo racconto così fidati del vento siamo vele in movimento animi e presenti spazi senza tempo nuvole nell'aria respiri passaggi culle di speranza sentito sentito quanta fame c'è nell'aria di un cambiamento dove siamo rimasti cosa abbiamo perduto nella fretta del tempo nel potere del nulla il valore di un pianto il respiro profondo delle piccole cose non saremo distanti dai bisogni del mondo perché nessuno si salva da solo è il momento di trovare un equilibrio di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo la mattina dopo la mattina dopo compi le tue scelte senza dubitare vivi nel tuo corpo ruga dopo ruga la bellezza si trasforma ma tu non ti condannare alle apparenze perché siamo portatori di un messaggio perché in fondo siamo solo dei passaggi hai sentito che calore c'è nell'aria e il cambiamento dove siamo rimasti cosa abbiamo perduto nella fretta del tempo nel potere del nulla il valore di un pianto il respiro profondo delle piccole cose non saremo distanti dai bisogni del mondo perché nessuno si salva da solo è il momento di trovare un equilibrio di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo la mattina dopo la mattina dopo la mattina dopo della mattina dopo la mattina dopo la mattina dopo la mattina dopo Grazie a tutti.